Un saluto a tutti e bentornati su Zanath Factor In questo video andiamo avanti con le taglie dei ricercati della nuova espansione di Destiny Più precisamente ci occuperemo del capitano spezzaregine nella rimessa 13 nel cosmodomo Come al solito selezioniamo pattuglia e cosmodomo e partiamo Eccoci arrivati Allora prendiamo il nostro astore E andiamo alla rimessa 13 Subito qua dietro si può tranquillamente anche andare a piedi in effetti Eccoci arrivati alla rimessa 13 Qui troveremo il capitano spezzaregine E infatti eccolo qua Ehi Ho anche mancato con la granata Perfetto Ecco fatto Come al solito ragazzi è più lo smettimento di arrivare fino a qua Che farlo fuori Ok ragazzi spero che il video vi sia stato utile Un saluto a tutti e alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti